signori buongiorno e bentornati sul canale del mastercare io sono il mastercare e il vostro ospite su questo canale ci eravamo lasciati a luglio con la serie del combattimento per quanto riguarda la rubrica del d20 system poi c'è stata la pausa d'agosto lo speciale della scuola finalmente adesso riprendiamo ho visto che c'è un bel po di gente che si è iscritta durante l'estate vi consiglio di andarvi a riprendere i video vecchi soprattutto per quanto riguarda la rubrica del d20 perché molto di quello di cui parlerò fa riferimento a robe che sono già state spiegate nei video precedenti quindi non vorrei che poi entraste in confusione tutti i video sono nella stessa playlist se qualcosa non vi torna andate a cercare i video precedenti comunque finalmente ora riprendiamo e andiamo a parlare delle basi del movimento e di conseguenza della griglia tattica o griglia di combattimento come a volte l'ho sentita chiamare la griglia tattica è un piano quadrettato dove andranno poi a sistemarsi le pedine o i segnalini che usate per indicare la posizione di mostri personaggi durante il gioco ogni master nel corso della sua carriera tende ad accumularne un po molte pubblicazioni ne contengono una altre si possono acquistare separatamente volendo potete anche utilizzare tabelloni di altri giochi nessuno naturalmente vi impedisce di crearvene una vostra nel caso sappiate che per convenzione ogni casella è un quadrato di un pollice di lato per adattarsi alle basi delle miniature da un pollice che sono lo standard la maggior parte delle case di miniature produce in scala 33 mm all'interno del gioco si considera che ogni quadretto sia uno spazio quadrato con un metro e mezzo di lato o di cinque piedi nella versione originale in inglese ogni cosa sulla griglia di battaglia occupa uno spazio normalmente una creatura di taglia piccola o media occupa un singolo quadretto una creatura grande ne occupa da due a quattro a seconda della sua forma e così via più una creatura è grande più occuperà spazio sulla griglia per ogni creatura normalmente è riportato lo spazio che occupa nel relativo bestiario non necessariamente una creatura occupa tutto lo spazio del quadretto ma è considerato che quello sia lo spazio minimo che gli consente di muoversi senza ricevere dei malus quando una creatura si muove si sposta di tanti quadretti quanto il suo movimento gli consente con un incremento minimo di un metro e mezzo per volta ad esempio un umano che normalmente muove in nove metri potrebbe spostarsi di massimo sei quadretti con un'azione di movimento al contrario un nano che ha un movimento di sei metri si sposterà soltanto di quattro quadretti una creatura naturalmente potrebbe sempre scegliere di muovere di più facendo due azioni di movimento o di muoversi di meno se questo gli conviene ma ne abbiamo già parlato nel video sulle azioni di combattimento naturalmente ci si può anche muovere diagonalmente ma in quel caso la cosa diventa più complessa il primo quadretto in diagonale conta sempre un metro e mezzo il secondo invece tre metri il terzo di nuovo un metro e mezzo e il quarto tre e così via una creatura che muove in nove metri si sposterà solo di quattro quadretti se si muove in diagonale questi tipi di movimento non si influenzano a vicenda il nostro umano potrebbe muoversi tre metri dritto poi di quattro e mezzo in diagonale e poi ancora di un metro e mezzo in avanti per aggirare un ostacolo ad esempio questo discorso però vale solo se il terreno è ragionevolmente sgombro come il pavimento di un dungeon una strada lastricata o un sentiero battuto se il terreno è irregolare o pieno di ostacoli le cose però cambiano un terreno su cui è difficile muoversi viene genericamente chiamato terreno impervio ogni casella di terreno impervio conta come due caselle di terreno sgombro e il movimento diagonale conta sempre come tre metri ogni casella i terreni particolarmente difficili da attraversare potrebbero la descrizione del master contare anche di più una creatura che occupa più di un quadretto paga sempre il movimento maggiore tra quello di tutti i quadretti che compongono il suo spazio altri terreni potrebbero proprio non essere percorribili con il solo movimento perché occupati da ostacoli che possono essere superati solo con adeguate prove di abilità o che non si possono proprio superare se non con mezzi non convenzionali ad esempio il master potrebbe richiedere delle prove di nuotare per attraversare una casella d'acqua alta ma difficilmente si potrebbe attraversare una casella di lava senza muslimarici ci si può muovere attraverso una casella occupata da un'altra creatura senza impedimento a patto che l'occupante della casella sia consenziente o sufficientemente incapacitato da non potersi opporre o se c'è una differenza di almeno tre taglie tra i due personaggi ad esempio un halfling di taglia piccola potrebbe correre tra le gambe di un gigante di taglia enorme o viceversa il gigante potrebbe scavalcare l'halfling senza che questi possa opporsi se non c'è il consenso si potrebbe comunque muovere ma bisogna ricorrere a speciali azioni di combattimento come oltrepassare o spingere non è comunque possibile terminare il proprio movimento su una casella occupata da un'altra creatura che sia amica o meno per questo video invece è tutto le basi del movimento tattico le abbiamo trattate tutte nei prossimi video andremo a vedere le situazioni più specifiche e vedere come il movimento si integra col combattimento spero come sempre che il video vi sia piaciuto e vi abbia interessato se è così mettete un like lasciate un commento e condividetelo sui social che aiuta a crescere il canale mi piacerebbe vedere anche se avete qualche storia da raccontare riguardo il movimento tattico di come siete riusciti a sconfiggere un mostro muovendosi in una maniera particolare o di come il master vi abbia brutalmente picchiati perché non siete riusciti a schierarvi in una posizione difensiva decente io sono il master cae noi ci rivediamo al prossimo video